Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro tutorial. In questo video ti mostrerò come eliminare una cartella in Google Drive. Ciao ragazzo, sono tornato di nuovo in questo video che ti mostrerò come eliminare una cartella in Google Drive se vuoi pulire o ridurre al minimo il tuo spazio di archiviazione in Google Drive. Quindi, iniziamo per prima cosa. Prima devi aprire il browser Google Chrome, quindi cercare su google.com, quindi dopo. Come puoi vedere questa icona, basta semplicemente toccarla, quindi, come puoi vedere, tocca il guidare. Come puoi vedere qui, il ragazzo una volta che hai finito di toccare l'unità ti indirizza qui. Quindi, qui ti mostrerò come eliminare una cartella perché è abbastanza semplice e veloce ragazzi. Ora, per eliminare quella cartella, come puoi vedere, tieni semplicemente premuto il tasto CTRL sulla tastiera, quindi fai semplicemente clic con il pulsante sinistro del mouse sulla cartella dopodiché, come puoi vedere in alto, ci sono scelte di icone. Quindi, quello che farei è toccare l'icona di eliminazione per eliminare il cartella. Ecco come eliminare un ragazzo della cartella grazie per aver guardato.